nel 1256 esce un libello dal titolo annales alberti abbati stadensis che qui vedete c'è un libro dell'abate alberto di stades che era un monastero nei presidi amburgo tra le altre cose racconta di due monaci tirri e firri uno dei quali deve andare a roma e chiede all'altro consigli di andate e ritorno su dove passare ed è diventato una sorta di lonely planet medievale quindi un libro conosciutissimo all'epoca e durante la loro chiacchierata amabilmente descritta fra l'altro vengono fuori una serie di divertentissimi giochi di logica e di matematica uno dei quali è diventato così famoso da essere ripreso più volte ed è arrivato fino a oggi è passato in particolare nel 1556 nel general trattato dei numeri e dei misure di Niccolò Fontana ha detto tartaglia è chiamato così perché dopo uno scherzo pericoloso subito da bambino da parte di un compagno di scuola che lo bullizzava sembra una randellata o qualcosa del genere diventerà balbuziente se vi venisse il dubbio si tratta proprio del tartaglia famoso per il triangolo di tartaglia importantissimo per chiunque provi a sviluppare binomi elevati a potenze superiori a 3 anzi anche superiori a 2 dalla 3 in su diciamo che si può facilmente fra l'altro costruire a mano in questo modo quindi si scrive l'1 poi si scrive 1 e 1 e poi a cascata si scrive sempre 1 agli estremi e poi in mezzo la somma dei numeri di sopra quindi in questo caso 1 più 1 e quindi sotto evidentemente qua 1 più 2 farà 3 e anche qua farà 3 perché sommo il 2 e l'1 qua e poi 1 e poi 1 e qua sarà 4 6 4 1 sempre per lo stesso principio no che sommo questo e questo e qua sommo questo e questo e così via no e poi sarà 1 5 10 10 5 1 eccetera allora questo è il segreto per risolvere gli binomi elevati no quindi a più b al quadrato qua questa è la riga del quadrato diventerà a al quadrato più 2 a b più b al quadrato come vedete qua c'è l'1 qua c'è il 2 e qua c'è di nuovo l'1 ovvero 1 2 1 se fate a più b al cubo dovete seguire lo stesso principio ma ovviamente sarà a al cubo più 3 al quadrato b più 3 a b al quadrato costiamoci più b al cubo e così via no quindi questi praticamente sono i coefficienti numerici i termini numerici del dello sviluppo dei binomi elevati a una certa potenza questo è il famoso triangolo di tartaglia quindi tartaglia appunto racconta anche lui di questa famosa storiella diciamo così torniamo all'enigma di logica che è originale quello di frate albert è comunemente chiamato l'enigma delle tre caraffe e consiste in questo vedete qua in sovraimpressione la versione originale chiaramente in latino no ci sono questi due monaci tirri e firri che vi dicevo e dice bene firri et ego tibi proponam aliud et subtilius certe quindi ti propongo anche io un problema perché prima l'aveva proposto firri un problema certamente più sottile dice no e poi dice dominus meus convivium abiturus quindi il mio signore che voleva preparare un banchetto eccetera eccetera mi mandò a prendere del vino nella città più vicina e quindi portai con me un vaso vede vas mecum accepi un recipiente di campienza otto galloni qua potete leggere otto metretas che sono appunto i galloni per curiosità adesso un gallone corrisponde all'onglese corrisponde circa a quattro litri e mezzo dubito che si riferisse alla stessa quantità riempito quella alla taverna non ne rimaneva più dice tirri a firri riferito al vino chiaramente no tornando indietro incontro te anche tu in cerca di vino mi chiedi da dove arrivo ed io dal foro porto il vino al mio signore mi chiedi quanto otto rispondo galloni de foro devenio eccetera eccetera octo aio metretas e poi tu mi dici pure io vado per prendere del vino ti rispondo non troverai vino chiedi a me di dividerlo con te non troverai vino perché ovviamente lui ha versato tutto il vino ti chiedo che vasi hai mi dici di avere due vasi uno di campienza 5 e l'altro 3 galloni mostrami come puoi dividere a metà ovvero 4 galloni con i tuoi vasi dividi o rimani senza vino quindi praticamente tirri propone a firri questo giochino in cui ipoteticamente si trovano in questa situazione devono dividere a metà ma hanno solo queste possibilità quindi un vaso pieno di vino da 8 galloni e poi due vasi vuoti uno da 5 uno da 3 ma se devono dividere a metà chiaramente devono averne 4 e 4 e poi conclude dicendo firri non rispose né divise quindi firri non riesce a risolvere il problema e quindi poi da qui in avanti ci sarà tirri che spiega come risolverlo tra l'altro alla fine metterà anche una sorta di sintesi dei passaggi logici ora tartaglia riinterpreta questa diciamo questa storiella con lo stesso identico giochino gli stessi peraltro identici numeri quindi non fa questo grande sforzo però come potete leggere sono due che hanno robato un'ampolletta di balsamo a un signor quindi vedete le prime righe del suo libro e quindi sta dicendo ci sono due tizi che rubano un'ampolla di otto once di balsamo un'oncia sono circa 30 millilitri per intenderci qua ricordatevi siamo già nel 1556 appunto accadette che costoro a questo punto accade che questi due trovano un vetraio che ha solo due ampolle una da 5 una da 3 once poi arrivano in un luogo sicuro e vogliono e qui ripartire il balsamo rubato poi si misero a voler partire questo balsamo dimandando come fecero non avendo né peso né altra misura certa chiedo quindi tartaglia dice passa alla prima persona e dice chiedo come fecero senza bilancia né altre misure precise io l'ho adattato a un esercizio di laboratorio che faccio con i miei allievi in cui ho dei baker non graduati con lo stesso criterio e quindi in buona sostanza c'è da risolvere questo problema cioè un contenitore da otto che possono essere litri decilitri metri cubi galloni o qualsiasi unità di misura volumetrica vi venga in mente pieno di qualcosa e quindi anche qui acqua latte olio vino profumo eccetera e altri due contenitori uno da 5 e uno da tre misure diciamo per semplicità litri completamente vuoti quindi la domanda è come fare a ottenere quattro litri precisamente senza versarne possibilmente neanche una goccia se volete cimentarvi nella soluzione mettete in pausa il video e provateci adesso invece procediamo noi innanzitutto sappiate che ci sono ben due soluzioni e sono entrambe corrette una un po più veloce l'altra un po più lenta perché richiede richiedono dei un numero di passaggi diverso ma sostanzialmente portano allo stesso risultato e quindi le possiamo considerare equivalenti procediamo in questo modo allora io ho la caraffa da otto piena e quindi riempirò la caraffa da 5 fino all'orlo a questo punto qua me ne rimangono tre e quindi qua avrò 5 e 0 nel senso che la caraffa più piccola sarà vuota la caraffa media sarà piena e la caraffa più grande avrà solo tre litri a questo punto svuoto la caraffa da 5 in quella da 3 in questo modo e quindi cosa succederà tre questo ovviamente rimane tre qua ne avrò due perché questo l'ho riempito di tre e quindi sono in questa situazione a questo punto prendo i tre litri della caraffa più piccola e li riempio e li verso completamente in quella piena in quella grande scusate quella da 6 da 8 e quindi diventerà da 6 e quindi avrò 2 qua e qua nessuno e a questo punto c'è il trucchetto diciamo che permette di risolvere la cosa cioè questi due litri li svuoto nella caraffa da 3 e quindi vabbè qua rimane 6 e qua avrò 0,2 questa è la situazione in cui basta basta un attimo per capire che siamo agli sgoccioli perché perché a questo punto io posso riempire di nuovo la caraffa da 6 la caraffa dove ce ne sono 6 in quella media e quindi diventerà di nuovo 5 ma qua ne ho due ne manca uno per riempirlo e quindi a questo punto se riempio i 5 in quella da 3 qua rimarrò con 4 e qua rimarrò con 3 e quindi sono arrivati ai miei famosi 4 litri poi qua in realtà ne rimane 1 e quindi se proprio vogliamo avere 4 e 4 mi basterà risvuotare questa da 3 qui e così avrò 4, 4 e 0 litri alla fine del mio ragionamento. Potete vedere anche come Albert il padre il labate Albert struttura la sua soluzione in nota nell'esercizio di prima e quindi vedete che lo schematizza esattamente così e quindi 3, 5, 0 vedete vaso grande vaso medio vaso minimo quindi 8, 0, 0 poi versa il 5 qua poi da qui versa qua e sono 3, 2, 3 poi 6, 2, 0 perché riversa questo qua poi svuota i 2 qui dentro nella piccola e quindi 6, 0, 2 eccetera e poi arriva anche lui a 4, 4, 0. Per la cronaca potrei ottenere lo stesso risultato come dicevo la seconda soluzione riempiendo inizialmente la caraffa da 3 anziché quella da 5. Se volete potete provarci e vedrete che potete arrivare con un procedimento molto simile allo stesso risultato. Ma non è finita qui nel senso che possiamo andare ancora più in profondità. L'esercizio può darci infatti un ulteriore spunto di riflessione. Quello che possiamo cercare è uno schema, un metodo. Un metodo che sia sfruttabile in qualsiasi condizione a prescindere dai litri, dati e richiesti. Perché? Perché l'esercizio avrebbe potuto essere uguale se avessimo avuto che ne so 10 litri da dividere equamente in due caraffe, una da 7, una da 8, faccio per dire. Insomma è uno schema che possiamo ottenere ragionando sulla geometria e su un particolare diagramma cartesiano. Cioè voi direte in che modo? È molto semplice, molto più semplice di quello che sembra. Prima di tutto si costruisce un triangolo rettangolo di questo tipo, scusate un triangolo equilatero e diciamo che il triangolo è di lato 8. Di lato 8 sono 8 litri iniziali, se ne avessimo di più potremmo usare di più, insomma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, diciamo così. E la stessa cosa possiamo fare qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Diciamo che siamo in questa situazione. Allora a questo punto uniamo le coordinate del nostro triangolo per ottenere tanti piccoli triangoli equilateri. A questo punto tracciamo delle linee orizzontali. Ovviamente il disegno non è precisissimo ma vedrete che il risultato non cambia. Ecco. In questo modo vedete che si sono formati una serie, poi potrei continuare chiaramente. Mi sono formato alla coordinata 3, mentre sull'asse, diciamo, x mi sono formato alla coordinata 5, perché questo lo possiamo considerare un vero e proprio diagramma cartesiano anomalo. Noi sappiamo che i diagrammi cartesiani sono fatti da una coordinata x e y che sono, quindi due assi, scusate, x e y che sono a 90 gradi uno rispetto all'altro. In questo caso usiamo due coordinate dove chiameremo y questa coordinata, cioè il lato obliquo, e x questa coordinata, cioè il lato di base, diciamo così, che sono evidentemente a 60 gradi, quindi una sorta di diagramma cartesiano anomalo che però ci permette, come vedremo, di risolvere, di trovare uno schema per l'esercizio molto interessante. Evidenzio i lati di questa sorta di rombo parallelepipedo, anzi, in questo parallelepipedo che posso considerare una sorta di tavolo da biliardo, le cui coordinate dipendono appunto da x e y. Vi ricordo che quando si segna un punto nel diagramma cartesiano, quindi per esempio, che ne so, un punto P qua, questa avrà coordinate x e y di P che si segnano x di P, y di P e quindi posso segnare anche io la coordinata, che ne so, sulla base di questo tipo che sarà il punto 5 e 0, mentre la coordinata qui sarà il punto 0, 3, perché ovviamente ha coordinate 0 rispetto alla x e 3 rispetto alla y. Bene, la cosa simpatica è che questo rombo rettangolo lo posso considerare un tavolo da biliardo anomalo, di nuovo. Però la cosa divertente è che se io prendo una pallina, per esempio gialla, e la sparo da qui, questa farà una serie di traiettorie che ci daranno delle indicazioni molto interessanti. Quindi per esempio io metto la pallina nell'angolo del mio tavolo da biliardo, la sparo, quindi il punto di partenza sarà evidentemente 5, 0 e vediamo che la mia pallina finirà qui, in questo punto. Questo punto, come vediamo, è di coordinate 2, come vedete da qui, e 3 e quindi passerò alle coordinate 2, 3, perché 2 rispetto alla x è 3 rispetto alla y. La pallina a questo punto, che in questo momento si trova qui, rimbalzerà e arriverà qui. Questa è una coordinata, chiaramente 2 rispetto alla x e 0 rispetto alla y, perché rispetto a qui. Ma a questo punto la mia pallina rimbalzerà ancora e rimbalza in questo punto qua, che sarà evidentemente di coordinate, questo è il punto 2, questa volta 0, 2. Dopodiché la mia pallina di nuovo rimbalza e andrà dritta in questo punto e questo punto, se ci fate caso, ha le coordinate rispetto alla x, 5 e rispetto alla y, 2. Quindi questo è il punto 5, 2, per non perdersi. E quindi da qui posso passare alle coordinate 5, 2. A questo punto la pallina rimbalza qui, che vedete che le traiettorie sono più o meno prestabilite, no? Questo è il punto di coordinata 4, eccolo qua, 4 rispetto alla x e 3 rispetto alla y, quindi sarà 4, 3. E infine l'ultimo rimbalzo evidentemente ci porta qui e quindi questa coordinata sarà evidentemente 4, 0. Cosa c'è di interessante? Che sono esattamente i passaggi, se ci fate caso, della risoluzione dell'esercizio che abbiamo fatto qua. Quindi se guardate le due caraffe vuote, 5, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 2, 5, 2, 4, 3, 4, 0. E infatti qua abbiamo 5, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 2, 5, 2, 4, 3, 4, 0. Cioè abbiamo trovato uno schema, un metodo per risolvere situazioni di questo tipo che funziona sempre. Non siamo convinti che funzioni sempre? Vi invito a testare un altro quesito utilizzando proprio questo metodo del biliardo anomalo. Siete davanti a una fonte con due secchi, uno da 7 litri e uno da 5 litri, entrambi vuoti chiaramente, e dovete ottenere 6 litri precisi. Come fate? Mi raccomando col minor numero di passaggi. Buon lavoro!